Oggi il concetto di museo è molto cambiato. Edifici spettacolari come il castello di Lagopisola pronti non soltanto a ricordare, funzione da valorizzare per il ruolo essenziale che la memoria e la narrazione giocano nella costruzione dell'identità di un popolo, ma ad accogliere e soprattutto a dialogare con il territorio. Una vera e propria metamorfosi, pienamente avviata, che fa di questi luoghi policulturali capaci di alimentare circuiti virtuosi utili all'economia di una regione, come sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Mollica. Inaugurare, conservare memoria della nostra emigrazione, credo che questa sia una sfida che bisogna cogliere un pochettino in tutti i contenitori culturali che abbiamo sparsi sul territorio, perché i contenitori sono strutture bellissime che vanno utilizzate, sfruttate a favore dello stesso territorio. Del resto un castello così bello, se non avesse e non fosse riempito di contenuti, non potrebbe essere uno dei posti che bisogna visitare. Sì, rimane una bellezza a fine a se stesso, ma per poter funzionare hanno bisogno che all'interno di questi castelli ci siano una serie di azioni, una serie di proposizioni, dove si può animare, dove una serie di manifestazioni possono attirare gente e fare da cassa di risonanza affinché altre persone possano godere di questi posti e congiuntamente il territorio può sfruttare sotto l'aspetto economico anche questi contenitori con la flusso e con la frequenza delle persone.